Al centro della flight line, ladies and gentlemen, Mr. Dario Nuschwander. ...centimetri dal terreno scaturiscono una adrenalina spaventosa. Come diamo Dario, che ancora si esibisce per noi e arricchisce il suo volo di momenti adrenalinici e spinti sempre verso il basso. Dario Nuschwander dalla Svizzera, un altro pilota internazionale, per noi qui ad Ozzano, al primo International Fanfly di elicotteri RC. Ed ancora, ancora signori, osservate, è incredibile, sempre più in basso, sempre più in basso. Svizzera